È stata una bruttissima campagna elettorale in cui, per paradosso, mentre l'anno scorso si è parlato per le politiche d'Europa, quest'anno invece non lo si è fatto e si è parlato solo d'Italia. Quindi speriamo che sia le interferenze giudiziarie o tutte le notizie che ruotano attorno a questo mondo e d'altro canto le beghe tra 5 Stelle e Lega non prendano nel sopravvento, almeno nell'ultima settimana, nei pochi giorni che ci separano ormai al voto, per discutere di qualche proposta che alla fine anche concretamente l'Europa consentirebbe di discutere, ma che invece è totalmente sparita dall'agenda. Suo osservatorio, gli italiani stanno sentendo questo tema europeo? Si recheranno alle urne? Io spero tanto di sì, ovviamente. Temo che ci sia un po' di disinteresse proprio per la ragione che non se ne è parlato. Eppure quest'anno potrebbe esserci una novità anche importante perché il declino delle famiglie politiche tradizionali, cioè socialisti, popolari e l'avanzata, almeno ipotetica, del fronte sovranista dovrebbe in qualche modo anche attrarre l'attenzione e ragionare su quelli che saranno i futuri equilibri del Parlamento europeo. In questo l'Italia forse è stata un po' apripista di una tendenza che potrebbe domani o comunque fra qualche giorno darci un quadro politico completamente diverso a Strasburgo. Quanto Roma è lontana oggi da Berlino, Parigi, Madrid, Bruxelles e le altre capitali? Roma sicuramente dovrebbe fare di più per essere sempre più europea in tutti i sensi. Farebbe molto bene a Roma, farebbe molto bene all'Italia. Naturalmente questo esserci significa anche il proporsi come palcoscenico di eventi europei, di una centralità che l'Italia non deve perdere assolutamente. D'altro canto c'è da riflettere su un dato, cioè noi assistiamo anche a un aumento esposenziale dei fondi europei o comunque delle risorse per i paesi che in questo momento sono più invece scettici nei confronti dell'Europa. È un dato che ci dice il paradosso di questa situazione dell'Unione in cui chi ci crede di meno alla fine se ne giova di più e chi invece se ne giova di meno ci crede di più. Oggettivamente è appunto un modo che deve far riflettere su come la distribuzione delle risorse dovrebbe tenere conto di questo e soprattutto anche su quanto forse sia stato un errore allargare così tanto l'Europa anche a chi evidentemente non aveva questo amore per il progetto europeo in quanto tale. Nel resto d'Europa noi siamo argomento di dibattito, si parla di noi, facciamo parlare di noi? Beh sì, un po' tutti fanno campagna elettorale, però per quel tanto di patriotismo che mi appartiene vedo molte speculazioni anche europee, giocando un po' sull'Italia, ogni tanto Moscovici fa campagna per il PSE, ogni tanto il cancelliere Kurz la fa per il suo partito, per cui si socialisce un popolare, quindi tutti approfittano per tirare acqua al proprio mulino. Io penso invece che l'Italia dovrebbe essere più rispettata e che le battaglie che troverebbero unito il Paese a prescindere dai fronti di appartenenza sarebbero quelle di un maggior peso dell'Italia nelle istituzioni europee. Temo invece che questo passaggio ci vedrà sicuramente un po' perdenti perché oggi disponiamo di tre cariche istituzionali dell'Unione Europea importanti, il Presidente della BCE, il Presidente dell'Europarlamento, il Mr. Pesce che poi in realtà è una Madame Pesce, visto che la Mogherini appunto siede su quella poltrona. Temo che nessuna di queste tre le riporteremo a casa, speriamo di pesare almeno un po' nella Commissione per farci rispettare di più. L'Europa, sentiamo spesso dire, è il più grande mercato del mondo, il più florido, però geopoliticamente non riesce mai a parlare con una sola voce, a imporre la sua voce, a proporre la sua voce. Purtroppo nella storia esistono dei momenti che durano a volte decenni di declino. Indubbiamente l'Europa è in un momento di declino, stretta come da una parte tra i Stati Uniti e sempre più sovranisti all'insegna dell'America First e la Cina che invece sta avanzando, tra l'altro poi con una variante che è la Russia che a sua volta incombe un po' sull'Europa. Quindi ci sono dei sceli minacciosi per l'Europa, ma anche perché l'Europa non fa niente per essere forte, è anche unitaria nelle sue posizioni, non fa niente per pesare. Basti vedere la trattativa con la Cina dal 5G al resto è stata portata avanti in modo sbrindellato senza fare squadra e quindi questo indubbiamente ci ha indebolito.